ciao ragazzi come state tutto bene ragazzi oggi è il mio compleanno e siamo qua ragazzi oggi è il mio compleanno uscirò un video forse oggi non lo so è dopo sta live che prenderò per il mio compleanno bello a tutti ciao 12 anni finalmente direi comunque ragazzi oggi facciamo un tic perché ragazzi è uscito l'aggiornamento e quindi perfetto ragazzi sono solo tic